e ben ritrovati a questo appuntamento domenicale della storia medievale narrata e targata, parentesi storica. Con oggi, vista anche in ossequio della mia origine veneta, mi piacerebbe raccontarvi la nascita e l'origine del mito, quindi la mito poiesi, di un personaggio che caratterizzò le vicende politiche del XIII secolo in questi territori e in senso lato anche dell'Italia e del Comune. Vista l'importanza del protagonista odierno, una prima descrizione ci giunge dallo stesso Dante, da essere più precisi, dal VI canto del Paradiso, chiaramente della Divina Commedia. Qui il poeta toscano lo presenta in maniera icastica, vale a dire come facella, cioè fiaccola, che, discendendo da un colle posto tra Rialto, Venezia quindi, e le fontane di Brinte e Piava, portò infiniti lutti, distruzioni e devastazioni alla pianura veneta. Dunque, chi seo? Chi è? A fugare a ogni dubbio, ma molto probabilmente alcuni di voi l'avranno già capito. Eccolo qua. Ezzelino III. Passato alla storia anche con l'appellativo poco gratificante, ed è il Tiranno. E appunto, giunti a questo momento qui, perché il Tiranno? Oppure perché, da un ezzelino II, conosciuto con il termine il monaco, l'acqua è un Tiranno? Presto detto, lo dobbiamo, questo signore qui, a Rolandino. Rolandino era un notaio della città di Padova, che, avendo, diciamo, avuto la fortuna di vivere l'esperienza ezzelignana, quindi l'esperienza della protossignoria ezzelignana, la città euganea, cosa fece? Seguendo una certa forma mentis del tempo, iniziò a scrivere. Iniziò a scrivere, e appunto, nell'opera che l'ha consegnata la storia, ci tramanda la visione di un ezzelino a cui, meglio, piaceva massacrare i propri rivali politici, nelle peggiori maniere, e anzi, in questo, però aveva un certo perverso piacere. Tant'è che lo stesso Dante lo colloca, colloca ezzelino terzo, nelle più intime bolce infernali, sommerso fino al capo, praticamente, dal sangue. Cioè, Dante, immaginatevi che stava camminando con suo Virgilia, vede sto ezzelino, magari, furente, che metteva ectoplasmi, che urlava, e sommerso, perdon, fino al collo, appunto, del sangue di fuori di amici. Tuttavia, lo stesso Rolandino, vista anche, nonostante una certa antipatia che nutriva nei confronti di ezzelino, ci tradisce anche un'importante informazione, vale dire, sì, ok, ezzelino era un tiranno, era perfido, era cattivo, però sapeva il fatto suo per quanto riguarda l'arte della guerra. Ora, a questa visione qui, che, diciamo, questo filone è meglio, che chiaramente è passato, predominante, è passato la storia, tant'è che nel 2017 lo conosciamo ancora con l'appellativo del tiranno, ce n'è un altro minoritario, composto anch'esso, o meglio, nato anch'esso da un notaio, questa volta però di Vicenza. Si tratta di Gerardo Maurizio, che, appunto, ci tramanda il ricordo di un ezzelino che era amatissimo dalle sue genti, dai suoi pedemontani, come ha modo, oltretutto, di sottolineare lo stesso Rolandino, cioè di quelle persone che, passatemi e concedetemi il termine, ezzelino era pur sempre un signore feudale, e quindi, conseguentemente, aveva i suoi, detta terra-terra, in maniera anche abbastanza volgare, i suoi vassalli. Ecco, Gerardo Maurizio dice che ezzelino era amatissimo dai suoi vassalli, dai suoi pedemontani, cioè di queste persone che provenivano da un arco immaginario che partiva da Bassano e terminava nella sinistra piave, quindi a nord della provincia di Treviso, dell'attuale provincia di Treviso. Lo stesso, appunto, Rolandino dice che i suoi pedemontani, utilizza sempre i suoi, i suoi amati, i suoi diletti, i pedemontani, lo seguono ovunque, lo seguono quando ezzelino cala in inverno, in pieno in inverno, oltretutto, sulla città di Verona, quando ezzelino va a combattere ovunque, viene seguito i suoi pedemontani, praticamente dove c'è ezzelino ci sono i suoi pedemontani. Quindi, abbiamo un ezzelino cattivo, un ezzelino praticamente nella top ten dei personaggi tremendi, d'altra parte invece è un ezzelino buono, un ezzelino prodigo anche nel premiare i suoi uomini, e quindi questo, per quanto riguarda invece il prosieguo dell'indagine legata sui perché di questo duplice, di questa forbice, di questo fenomeno, non mi rimane altro che invitarvi a seguire parentesi storiche perché appunto su questa importantissima, ricchissima, interessantissima figura di ezzelino da romano stiamo preparando qualcosa per voi. Grazie. Grazie.